Credito voltellinese licenzia i dati del primo semestre 2020 con confortanti segnali di efficientamento e recupero di competitività. I risultati consolidati al 30 giugno, approvati mercoledì sera dal Consiglio d'amministrazione, evidenziano un utile netto di 41 milioni contro i 23 dello stesso periodo 2019. A un anno dal varo del piano industriale e nonostante il forte impatto dell'emergenza Covid, dimezzato lo stock di crediti deteriorati, sceso a un miliardo, con copertura su livelli elevati, rilanciata la piattaforma commerciale grazie anche a una nuova offerta online di prestiti personali, razionalizzati i costi e innalzato l'indicatore di solidità patrimoniale su valori di vertice del sistema bancario italiano. Oggi Creval, dichiara l'amministratore delegato Luigi Lovaglio, si presenta come una banca rinnovata, resiliente e solida. I numeri dei primi sei mesi dell'anno evidenziano un buon incremento dei volumi commerciali, segnale concreto del nostro impegno nel servire e fidelizzare i clienti, sia famiglie che PMI, oltre alla capacità di gestire proattivamente i costi, garantendo così un buon livello di redditività. L'accelerazione nella realizzazione del piano, conseguita grazie ad una maggiore agilità operativa, rimarca Lovaglio, oggi consente alla banca di presentarsi con una struttura patrimoniale rafforzata e un basso profilo di rischio e una posizione di liquidità mai raggiunta nella sua storia. In particolare, con la cessione di un ultimo pacchetto del valore lordo di 300 milioni e 800 da inizio anno, l'Istituto di Piazza Quadrivio riduce ulteriormente la zavorra costituita dall'esposizione a crediti deteriorati o inesigibili, raggiungendo in anticipo gli obiettivi previsti dal piano industriale per il 2020. Quanto ai costi, le azioni di contenimento della spesa e di semplificazione dei processi hanno consentito di raggiungere una riduzione anno su anno del 10% degli oneri operativi in anticipo rispetto alle tempistiche previste. Durante l'emergenza Covid, Credito Valtellinese ha rafforzato le misure a sostegno della liquidità di famiglie e imprese clienti, come conferma l'aumento del 3,6% degli impieghi retail. 34.000 le moratorie concesse per un controvalore di rate sospese pari a 760 milioni di euro, 15.000 i finanziamenti e imprese garantiti dallo Stato per oltre 500 milioni. Quanto alle previsioni, Credito Valtellinese è pronto ad affrontare le sfide del contesto economico e anche i possibili peggioramenti e a valutare l'attualità degli obiettivi del piano 2019-2023 in funzione dell'evolvere della situazione con una posizione molto solida. Gestione del risparmio delle famiglie e credito alle piccole e medie imprese resteranno il perdo dell'attività commerciale.